E ormai alle porte la stagione dell'export Floricolo Ligure con il 50% della produzione di aromatiche e piante in vaso che la prossima primavera partiranno alla volta del centro nord Europa e a preoccupare le imprese, soprattutto della provincia savonese, sono l'isolamento viario e i rallentamenti sui principali collegamenti autostradali dopo il crollo del viadotto sull'A6 Savona Torino, nonché i forti disagi sull'A26 e sull'autostrada dei Fiori. Lo evidenzia la call di Retti che sottolinea come siano necessari interventi urgenti di ripristino della normale viabilità e di potenziamento infrastrutturale per non condizionare negativamente la commercializzazione delle produzioni locali e l'indotto economico delle imprese. La floricoltura in Liguria si concentra per il 95% tra le province di Imperia e Savona e conta ad oggi 3.200 aziende di fiori e piante ornamentali in provincia di Imperia e circa 1.000 nella provincia di Savona. A pagare maggiormente il disagio, secondo col di Retti, saranno le aziende presenti nella provincia di Savona dove si concentra la massima produzione di aromatiche e margherite in vaso, provincia che fornisce il 25% della produzione nazionale di questa tipologia di prodotto.